Ebbene sì ragazzi, sembra passato pochissimo, ma se andiamo nelle informazioni del canale potete vedere che mi sono iscritta a YouTube il 9 luglio del 2018, quindi ben due anni fa. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Due anni che hanno significato per me tantissimo, un cambiamento quasi radicale perché dal gaming sono passata a fare vlog e ho lasciato insomma da parte quella passione del gaming che in realtà da pochissimo ho ripreso e mi sono data da fare per raggiungere obiettivi anche su questo canale. L'anno scorso non è stato un anno perfetto per questo canale anche perché non ci sono davvero pochi video però da ormai sei mesi a questa parte con il video del Rewind 2019 più obiettivi del 2020 ho iniziato a fare due video a settimana. I video che vedete tutte le settimane il martedì e il venerdì. E da lì il canale ha subito una notevole crescita. Abbiamo anche avuto tanti video che sono andati molto bene, tra cui a parte video che comunque hanno fatto dalle 400 alle 500 visualizzazioni o più. Ci sono alcuni video tipo quello del mio salvadanaio che ne ha fatti 2.500 oppure per esempio quelli dei bot telegram che uno ha 8.535 visualizzazioni, un altro ne ha 4.685. Poi ovviamente ci sono anche video motivazionali, quelli in cui spiego come imparare il francese l'inglese, tantissimi video che stanno andando bene, che continuano a crescere giorno dopo giorno insieme a me alla fine, anche il video della maturità. Ultimamente per esempio è uscito anche il video del mio esame di maturità che è il racconto insomma di quello che è stato il mio percorso verso la maturità. E sì, è davvero incredibile questa cosa come in due anni si possono fare tantissime cose e si possono avere anche tantissimi cambiamenti per quanto riguarda la crescita personale. Penso due anni fa mi sembra un'eternità, due anni fa non avevo né la patente né ero diplomata, non avevo nulla praticamente di quello che ho adesso, nemmeno un attestato B1 avevo due anni fa. Eppure ragazzi sì, sono passati ben due anni, voi adesso non lo vedete vi dice ancora un anno perché adesso che sto registrando il video è il 7 di luglio e quindi dopo domani faremo anni precisi, quindi il 9 luglio. E io le clip le sto registrando prima, infatti come andate a vedere qua il primo video è uscito il 9 luglio del 2018. E sì, c'è stato un bel po' di cambiamento in tutto ciò, anche nel mio modo di editare video. Abbiamo cambiato nome perché come vedete qua dalla descrizione all'inizio del canale si chiamava About Irene e poi in seguito ho deciso di cambiarlo mettendo Not Irene. Abbiamo cambiato diverse immagini di profilo del canale, diverse miniature, diversi banner e dopo aver sperimentato per un bel po' come avete visto penso di aver trovato finalmente il mio stile di miniature che è questo qui. E non posso che esserne felice ragazzi. Ovviamente durante questo periodo ci saranno nuovamente tantissimi altri cambiamenti e non vedo l'ora di vedere come si evolverà questo canale e come si evolverà tutta la mia vita e spero che anche voi possiate rimanere qua con me.